Paola Veneto è la curatrice del premio e a te chiedo prima di tutto perché tre anni di premio più luce qui al vittoriale il premio più luce nasce come un progetto di vicinanza all'arte e alla poesia insieme all'arte perché siamo in un luogo d'arte alla poesia perché è la casa di un poeta ed era necessario secondo noi secondo la generosità del nostro direttore del festival portare la poesia viva così come vive sono le pietre di questo luogo a inondare di bellezza ulteriore un posto già così magico. Quest'anno c'è un tema particolare attorno al quale si incentra la sfida finale ma anche si è incentrato tutto il bando che è il tema della nostalgia perché hai pensato questo tema e come trovi che l'abbiano affrontato i poeti che tu hai selezionato per le liriche che abbiamo proposto ai nostri candidati? La nostalgia è un sentimento che si presta a molte interpretazioni e nel caso specifico in questo momento storico che l'Italia sta vivendo a mio parere è molto importante che si ricordi chi eravamo e chi siamo e chi possiamo diventare come ho scritto anche nella poetica che potete trovare sul sito dell'Anfiteatro del Vittoriale perché è importante mantenere una memoria storica non troppo lontana nel tempo quando si pensa alla poesia italiana magari la prima cosa che viene in mente è Dante Alighieri ecco la poesia quella monumentale quella che ci ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo come un classico i nostri classici contemporanei però sono importanti da riportare alla luce magari in liriche un po' meno note rispetto a quelle che girano soprattutto su web perché è importante ricordarsi che lo smarrimento dell'uomo del biandante del senza dimora del senza casa la casa intesa non soltanto come luogo fisico ma anche come luogo dell'anima è un sentimento che accomuna tutti e quindi non soltanto chi migra in senso anche geografico ma chi migra da un posto che non riconosce più come suo verso un altro che improvvisamente può diventare una casa per dei sentimenti che non avevano un luogo stretto lì dove deve essere per sentirsi a posto con se stessi. Dieci finalisti si sfideranno appunto a colpi diversi a ingresso gratuito per il pubblico. Il pubblico che interverrà troverà davvero dei bravissimi attori perché sono arrivate candidature di grande qualità e da tutta Italia però il premio non è aperto soltanto agli attori c'è anche un'altra categoria che è quella degli interpreti perché questa scelta? Allora il nostro premio è partito il primo anno con un'apertura di candidature a tutti quelli che volevano recitare la poesia e non soltanto agli attori che sono abituati a farlo. Adesso quest'anno noi abbiamo mantenuto questo indirizzo verso tutti dividendo però le categorie per motivi di equità nel senso che è difficile a volte giudicare la performance di qualcuno che è abituato a recitare rispetto a qualcuno che invece magari recita soltanto nella sua stanza o canta nella sua doccia che però si vuole misurare comunque mettendo a disposizione del pubblico una passione che per noi è più importante della tecnica in questo momento. Quindi abbiamo aperto a tutti questo palcoscenico meraviglioso nel laghetto delle danze. Anche nel momento in cui noi chiediamo di mandare il video che è poi quello che ci fa selezionare i finalisti non diamo nessuna importanza al fatto che il video venga girato nella propria stanza oppure in un luogo come può essere un teatro o una sala di registrazione perché il nostro approccio vuole appunto essere un approccio poetico e quindi un approccio verso la espressività laddove la tecnica è soltanto un qualcosa in più che comunque ovviamente al suo peso che però è sempre secondario rispetto alla passione di chi ci vuole raccontare attraverso i versi la propria vicinanza alla bellezza e al verso. Non per niente domani sera presidente di giuria per questa edizione è un grande poeta come Maurizio Cucchi, accanto a lui il presidente del vittoriale Giordano Bruno Guerri, il regista e drammaturgo Bruno Fornasari e la vincitrice della precedente edizione Francesca Garioni e noi ci troviamo in questo momento sotto una splendida scultura di Ettore Greco, ricordiamo che il presidente del vittoriale Giordano Bruno Guerri ha aperto questo luogo magnifico anche all'arte contemporanea, Ettore è uno scultore fadovano che ha portato al vittoriale alcune sue opere molto belle e al quale la fondazione il vittoriale ha commissionato il premio che diamo al vincitore di ogni edizione che è proprio una piccola scultura l'abbraccio di Ettore Greco. Mi viene in mente anche ci sono dei versi molto belli di chiarostami che parlano in un libro che si chiama Un lupo in agguato dei panni stesi in mezzo al deserto ad asciugare che parlano di libertà. Ecco in qualche modo coraggiosamente il nostro direttore Viola Costa, il presidente del vittoriale Giordano Bruno Guerri ci permettono di appendere dei panni bianchi e semplici ad asciugare un po' di magari anche perdita di fiducia verso quelli che possono essere degli eventi che vogliono far partecipare davvero ciò che è più semplice ma anche più bello cioè la partecipazione popolare a qualcosa che viene considerato invece poco popolare come la poesia anche quando non è così semplice e così diretta di facile ascolto può diventare non di facile ascolto perché noi non cerchiamo la facilità dell'ascolto però la semplicità dell'ascolto sì è proprio per questo che diciamo che per noi è più importante la sostanza della bellezza rispetto alla forma del resto la forma è già talmente tanto bella e impeccabile in questo luogo che noi vogliamo portare un po' di freschezza è questo che ci interessa di più nel nostro premio più luce che come abbiamo detto già il nome stesso si rifà a Goethe quindi a un personaggio della letteratura che più classico non si può vuole essere un omaggio alla poesia e alla bellezza intesi in senso classico ma non in maniera classica la bellezza le cose belle le cose fra virgolette considerate difficili devono essere alla portata di tutti devono essere essere offerte con un linguaggio e con un approccio che è quello del premio che non vuole essere sofisticato vuole essere semplicemente bello cioè non è che una cosa perché è bella e non è immediata allora è per forza per un elite allora è per forza per gli intellettuali gli intellettuali rimangono intellettuali spesso rimangono un po' chiusi nel loro mondo a volte anche comprensibilmente noi no noi siamo qui siamo in una piazza saremo al laghetto nei boschi e sugli alberi a parlare di poesia perché tutti di tutte l'età e di tutte le estrazioni delle classi sociali possano dire a me piace quella poesia di ungaretti a me piace il poeta russo che ha scritto ubriaco sulla nave puglia quel giorno vicino ad annunzo ecco che si possano offrire dei riferimenti un po più alti di quelli che sono facilmente reperibili sul web e che uno si deve andare a cercare nei libri che siano anche degli audiolibri che siano anche dei libri questi digitali come si chiamano che io nemmeno lo so però un po' di ricerca perché la ricerca ci fa crescere tutti a tutte le età e crescere è un obiettivo che non bisogna mai togliersi da davanti è un peccato che non ci sia qui fabio astori che è il presidente di luxor l'azienda che sostiene il premio da tre anni è un'azienda estremamente tecnica che realizza termo valvole per i caloriferi però lui ci ha sempre raccontato questo esempio cioè che lui in azienda accanto alla mensa ha istituito la biblioteca per i propri operai e la troviamo l'iniziativa assolutamente illuminata lui è proprio uno dei fautori della gratuità anche al pubblico di questo premio proprio in connessione a quello che tu dicevi cioè all'importanza che la cultura arrivi a tutti ma arrivi a tutti non come imposizione ma come capacità di parlare al cuore e all'anima avere un mecenate appunto così illuminato in questi casi è un regalo grosso così come avere mecenate come giordano bruno guerri e come la stessa viola costa che riescono a capire l'importanza di un progetto mi piace dire un progetto popolare senza però essere necessariamente un progetto facile non cerchiamo le cose facili cerchiamo le cose belle e alte per tutti perché alla fine come ci racconta Nazim Mikmet il più bello dei mari è quello che non navigammo il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto il più bello dei nostri giorni non abbiamo ancora vissuto è quello che volevo dirti di più bello non te l'ho ancora detto